Immagine di Enrico Cuffaro I fratelli dello spazio attraverso Wanda a cura di Vubi Cara sorella, umanamente sei scossa da un evento che voi umani chiamate morte, per la quale rimanete spesso addolorati. Ricordati però che la tua anima, la tua coscienza, tutta la tua parte animica, sa che la morte è vita e che da essa sorgerà un nuovo cammino, una nuova fase più completa, perché corredata da esperienze ormai vissute e che perciò non si ripeteranno più nel tempo. Ognuno deve avere ogni volta la forza di estinguerle per riprendere la strada verso la luce del Padre ed entrare a far parte di quel girone che vi porterà sempre più in alto, nell'armonia completa. Un'armonia dove tutto splende in un caleidoscopio di colori vivissimi, in fontane zampillanti di acqua energetica, che laverà con un sol bagno il vostro essere. Vi farà dimenticare il vostro vissuto, innalzandovi così a recepire l'armonia del Padre, che vi potrà perciò affidare altri compiti in livelli superiori. Cara sorella, quanto ti abbiamo descritto non è un sogno, ma la pura realtà, la realtà di un esistere completo per tutti i secoli a venire.